In questa lobby ci sono 68 player totalmente no skin, tipo quello che state vedendo davanti E l'unico loro obiettivo è quello di nascondersi e non farsi trovare da me Di conseguenza io sarò l'unico cacciatore contro ben 68, o meglio 67, essendo che uno si è appena killato Player che si dovranno riuscire a nascondere Vi assicuro che questo è il nascondino più difficile che abbiamo fatto in tutta la mia vita su Fortnite In ogni caso il tempo è già iniziato, di conseguenza vedo delle persone davanti a me E che fare se non andare a killarle? Ok, allora raga, si parte Questo qua, ma che è? Questo qua mi sta mirando con delle armi? No, 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 che non mi stava mirando Se ne sta scappando, allora raga, loro possono scappare, possono fare qualsiasi cosa Fermi che stavo per killare il primo Ok, loro possono scappare, usare i mazzi, usare i rampini Possono usare un sacco di cose raga, quindi vi assicuro che non sarà per nulla facile Ma adesso audio raga, abbiamo bisogno dell'audio Ok, ce ne sta uno qua Signori, che il codice ferro sia con noi Che il codice ferro sia con noi E il primo che se ne va è il mitico ciuchino 3, 5, 6, ok fermi Ci stanno altri player raga qua Mamma mia ragazzi, questi me li becco tutti Questi signori me li becco tutti Ci parte ragazzi, il Thanos più cattivo che abbia mai visto è qua per demolire questo nascondino Per provare a vincerlo Ok raga, il bro si stava facendo Il bro raga aveva trovato il posto più bello della mappa Ma bro Raga, questo è un pro player assurdo Raga, io ve l'ho detto che in sta partita ci sono un sacco di pro player devastanti in più raga Io non li riesco a riconoscere perché il grandissimo problema Tanto gente che va con la moto Tutto ok per me? Mamma mia, questo l'avevo laserato eh Il problema è che raga, sono tutti uno skin Quindi ok, piano, piano Passo, passo per passo raga Allora, devo riuscire a prendere una macchina o una moto Così che sia tutto più facile raga Io vado contro le strutture Li provo a uccidere Provo a fare qualsiasi cosa raga Il problema è che comprendete che un Thanos così da solo contro letteralmente raga 64 giocatori non può competere raga Stanno tutti nascosti benissimo Ok allora, la safe è questa Io direi qua colonne di cinesate ce ne sono Cineaste scusate Cinesate Cosa vado a dire? Vabbè In ogni caso stavo dicendo ci staranno ancora un sacco di player Quindi vediamo di killar questi Dobbiamo per forza riuscire a killar questi prima Ucci 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 Sento odore di cristianucci Diceva mia nonna E anzi scrivetemi nei commenti raga Cosa usavano le vostre nonne Quando giocavate a nascondino Per trovarvi O comunque per dare diciamo Il via alla sfida raga Altro che odore di cristianucci Poi non c'è letteralmente nessuno raga L'auto me l'hanno già fregata Sono rimasto letteralmente da solo Un Thanos così che vaga nel nulla Sapete dove me vado Me ne vado distese raga Me ne vado distese Io voglio vedere il pazzo Io voglio vedere il pazzo Se c'è qualcuno pazzo Che non è essere pazzi È essere peggio Che si va a prendere una taglia raga Cioè letteralmente Sarebbe subito purtroppo Quindi non fatelo raga Per favore Partiti male raga Qua potremmo trovare gente Da un momento all'altro Anche nei cispugli Ok Sapete che se dovessi trovare un cecchino Lo prenderei molto volentieri Questo non è un cecchino vero Ok si un cecchino Questo raga è molto buono Perché da lontano Se la gente se ne sta per scappare Io li posso colpire Questa cosa è ottima Comunque pollo Vieni qua Afferriamo il pollo Raga ho sentito sparare qualcuno Raga mi sono dimenticato Che i bozzono Oh mio dio signori I bozzo miei alleati I bozzo miei alleati Me lo sono dimenticato E stanno per killare il boss Ok fermi tutti raga Questa è una killa Abbastanza semplice Let's go Sentite qua raga Questi qua non sanno Che io mi trovo qua eh Questi qua non Non sanno che io mi trovo qua Cavolata Questi qua raga Si che lo sanno Perché hanno appena sentito il pompa Fermi Il bro Il bro No Eh bravo lui Raga aveva l'impulso Eh raga loro possono scappare In ogni modo Quindi Sto qua mi ha fregatissimo Ok fermi L'ha imperata della vita No c'è pure rampino Raga questo qua vince per forza Non puoi Perdere Ok 116 No ma chi è che spara Ma chi è che spara Ma non ci credo raga Questo uno che vuol fightare Il bro non ha capito Come un nascondino Adesso il Thanos Della situazione Invece l'ha capito e come Ha visto che ero io E ha lasciato tutto Pirandana a nascondersi Raga questo è stato più che furbo Però adesso il medaglione Ce l'ho io Ma sapete che in realtà raga Il medaglione serve a ben poco raga A chi serve il medaglione Perché ma sapete cosa devo mettermi Devo mettermi i passi raga Con i passi sarebbe stato Tutto più facile No raga ma è troppo difficile Ve lo giuro raga Io sclero di brutto Mi sentirete sclero troppo In questo video Perché è troppo impossibile Raga trovare così tante persone In più raga Se io sono così tanto pollo Da prendere la talla Il medaglione Qua comprendete che La roba è così La roba è un po' una cavolata Allora Io mi prendo il mio overboard Ok no Perché sicuramente Mi sono incastrato Sicuramente Vabbè Prendo la mia macchinozza Ed adesso raga Si trovano persone Questo voleva fare la skybase Ma che ha fatto questo raga Andiamo subito da lui Player signori C'è un player Devo fingere di non essere Thanos ok No Mi è scappato No 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 ragazzi No Ok lo vado a prendere Hai sbagliato bro Dovevi andartene in colonne Cineaste Guardalo quante cose Puoi scappare bro Guardalo Ti vengo a prendere comunque No Vieni qua Quanto Ma quanti ne ha di rampini Raga ma quanti rampini Albro Ok fermi Sì 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 Il cavolo Eh volevi scappare in auto Invece Il Thanos è arrivato Io immagino questa raga Si ritrova Un Thanos ok Eh no raga Adesso dobbiamo killare Ok Ok no 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 Se ne è scappato Brodero Mi dispiace È giunta la tua ora Let's go Signori Primo player Ma in realtà è il secondo player Killato L'abbiamo un po' fregato raga Perché la cosa brutta È che loro Non sanno che io sono Thanos Quindi quando sto sulla macchina Loro tipo si aspettano Che sia una persona normale Provano a fartimi come questo Che era un grande raga Poverino Ma a volte vengono fregati Ecco Ok Là ci sta un altro tizio Là ci stanno altri tizi Fatemi avvicinare con la macchina Loro non devono capire che sono io Però eh raga Non devono capire che sono io E invece sono io Vediamo come fanno No 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 Guarda come scappano Guarda come scappano Ok Guardalo 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 Ok Ucciso un altro Mamma mia raga Diventerà veramente tosta questa sfida Soprattutto all'inizio Perché Immaginatevi tutti i player Che vogliono continuamente scappare Fermi Il bro Ok No no Non mi potete scappare Voi non avete capito nulla Non mi potete scappare La furia di Thanos Sta arrivando Signori Le gemme dell'infinito Il codice ferro Signori Andiamo a prenderlo Signori Andiamo a prenderlo Bam Ok Ok No 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 Un colpetto Non ci credo raga Com'è scappato questo Guardali come scappano raga Stanno super lontano questo eh Il problema era quello di destra o di sinistra Presumo fosse questo Eh raga Questo qua Non è neanche male eh Sta scappando bene eh Ok guarda come full boxa Devastante il bro eh E io lo faccio cadere Potrei essere stato un po' infame eh Ma il bro non è ancora morto E non ci credo Ci lascia così Bro te lo complimenti però Perché raga Sono tutti troppo forti Ancora 58 player rimasti E ci sta una taglia Raga Questo polo Eh sì 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 Raga questo non dovevate farlo Non dovevate prenderla mai Nella vita la taglia O forse però è quello con l'auto Addirittura ce ne stanno due di auto Questo è un grande problema Ma vicino anch'io con l'auto raga Suono il claxon per finta Sperando che loro non sappiano chi sono Ok forse mi hanno riconosciuto No che non mi hanno riconosciuto E l'esco Altra chi l'ha fatta Mamma mia quanto sono infame raga Ve lo giuro che Mi sento proprio infame eh Però raga fa parte del gioco E mi posso fregare in questa maniera io Ehi Va 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 Ok Porca paletta vieni qua brodero Vieni qua che ti devo prendere Ok di certo la macchina più veloce della mia Ed è lui con la taglia Confermato Quindi ok raga Non sarà troppo difficile Non farcelo scappare in realtà Più che altro raga Secondo me lui non se ne è reso conto Qua ci sta la macchina La taglia si sta spostando in avanti Ok raga sta là Ma là si fightano Ma che è? Là si stanno fightando No 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 Guardali guardali Raga è la gang più grande che abbiamo mai visto per ora È la gang più grande che abbiamo mai visto per ora Arriva Thanos Guardali come scappa No ragazzi ma questo è il minigame più bello Che abbiamo mai fatto No Mi ha rubato l'auto No 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 brother Tu sei impazzito Tu sei impazzito che mi rubi l'auto Fammi salire Ok 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 Guarda dove ce ne vuole i nag No 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 ragazzi ma Ok headshot No ragazzi ma sono troppo più forti Ormai sono Ragazzi ma i miei fan sono tipo Addestrati al peggio signori Ma quanto sono forti ok Eh no brother La macchina era full Zero di tutto E let's go Nuova kill per noi Mamma mia raga Quanto è difficile sta sfida Ok raga devo trovare dei modi per trollare i nemici Nel frattempo voglio già vedere se ci sono delle skybase No ok Per ora niente skybase raga Anche se secondo me se ci sono non si vedono Prendiamo un punto un pochettino basso Ok va bene va bene non fa nulla Zero powers Nel frattempo la safe si sta chiudendo tanto E raga Metà in mare Oh mio dio Guarda che si fa ancora più complesso di quello che era prima Ok allora Dobbiamo trovare tipo le gang Perché raga loro sto vedendo Chi si riuniscono a gang Sono molto furbi E ci sta in effetti eh Loro cercano di rimanere uniti Quando trovano uno sanno che la possibilità che venga chilato uno E gli altri che scappano è molto più elevata Quindi molto furbi bravi Mi state sorprendendo raga Altri medaglioni Ovviamente non ci sono raga Mi sembrava anche abbastanza Scontato fermi però Questi qua raga che usano Per forza Devo andare con loro Speriamo che vogliano provarti Po' a seguirmi sull'auto Ok raga Lì ho sopra Fermi Fisco Gli dico di salire Faccio l'infame Raga no 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 Quanto sono infame Da uno a centomila raga Che se qua in seguo gli dico di salire eh Sperando che non sia uno che mi ha già visto con quest'auto Magari raga è un player solista Non lo so No no Guardalo come scappa Ok E cavolo Let's go Mamma mia che infame No ragazzi Quanto mi dispiace raga Ok A tutte le persone che ho fregato In questa maniera Vi mando un bacio virtuale raga Letteralmente Cioè vi chiedo scusa perché Ma devo raga D'altronde Ognuno c'ha il proprio Io devo cercare di vincerla Sta partita E quindi la vinceremo signori Senza nessun esito Codice ferro per tutti Non mi odiate Tanto questo qua Lui pensa che io non l'abbia visto eh Lui pensa che non l'abbia visto Invece Oh mio dio No 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 Brother Perché devi sparare Perché devi sparare Ok ci voleva fregare il bro Meno male che siamo riusciti a killarlo Questo qua sicuramente sarà da segnalare o bloccare Così non potrò Non potrò più far minigame con noi Nuovi player signori Questo qua si è reso conto che sono ferro Guardalo dove se ne vuole andare No Come me è scappato lo sa solo lui Come me è scappato lo sa solo lui Raga bravo 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 Anche questa è un'ottima tecnica Stare vicino in queste zone Per poi scapparsene proprio giusto nel momento opportuno Mamma mia se ci fosse stato qua uno lo lasciavo vivo Era nascondito troppo epico Un bro che Eh brother non puoi Cioè puoi far teaming ma non con Thanos Cioè ragazzi dovete stare attenti Portate attenzione alla skin Ok fermi fermi che ne vedo uno No non dovevo sparare Non dovevo farmi sentire Vedete che ogni tanto sono anche io un pollo Questo qua ha capito che sono io Questo qua ha compreso che sono io Non so se l'aveva compreso Ma se ne sta scappando Scusate va bene Non dobbiamo far lasciarlo scappare Un colpetto No che cavolo La cosa bella raga davvero Di stare uniti È che No dai un colpo sì Mamma mia mamma mia mamma mia Intanto raga grazie ancora a tutti Che state permettendo questo video Ma adesso Pochi devono essere ringraziamenti Ma devono esserci suppliche Da parte vostra Perché mi vengo a prendere uno ad uno ragazzi Mi sto volendo prendere Ok signori Adesso direi che Dobbiamo anche Cercare di mostrare Le nostre dotte Da sniper professionista Il più possibile Ok Fermi 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 Che è questo Sei stato beccato in pieno brother Sei stato beccato in pieno No 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 Devo spaccato una gomma Ok gomma spaccata Teoricamente vado più veloce io E anche se Ho questo scarico Ok se mi blocco contro gli alberi Non vado più veloce io Poco ma sicuro Eh cavolo sta cercando Di andare giù di sotto raga Per prendere più velocità Raga questi comunque Sono tutti furbi Bravi complimenti a voi raga Guarda di là come scappano raga Oh mio dio le sgobbe la cecchinata Mamma mia raga Non sono riuscito a killarlo però Devo per forza pusharli Questo dimmi che ha Raga c'era della vita in quest'auto Piano 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 Questo è da pushare eh Ok Ho rotto una ruota Mamma mia buono 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 Broderigno Non è nulla per scappar Ah c'era i mazzi bro eh Ok Let's go signori eh Ok fermi Un tizio che va Così Mamma mia ragazzi Quanto mi sto divertendo Mamma mia così mi piacciono Signori minigame Let's go Ok fermi 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 No No way Ma non è morto Raga comunque Un gg a tutti Perché vi state Cioè ve la state cavando Benissimo letteralmente eh Vabbè spero di Eccolo guardali Guardali qua lì Ok Mamma mia raga Quanto siete furbi Però ve ne andate Sotto i ponti Ve ne andate Adesso tanto arriva ferro Arriva Comunque ditemi voi Se l'avete mai visto Un nascondino così Con 47 giocatori Vabbè Di cui uno io 46 player Tutti in una zona così piccola E li devo killare tutti io raga C'ho già 11 kg in tutto questo Guardali qua Guardali qua Faccio finta di salire Questo se ne è accorto Questo se ne è accorto Che ero io raga Ok killato Non devono salire sull'auto eh raga C'è gente pure invisibile Ok No Ok Pensavi di No ragazzi non Dovete Sparare Nulla Ok killato un altro Buono 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 buonissimo Raga un sacco di gente C'aveva le pizze C'aveva un sacco di cose Interessante eh Anche perché in effetti Si poteva fare E se invece provassi la tecnica Del mi fingo io loro Ok raga adesso sapete cosa faccio Non so se vale troppo questa cosa Ma se adesso È Thanos A diventare invisibile Raga è il momento Devo fregar tutti Devo entrare in un loro covo Devo letteralmente entrare in un loro covo Fermi 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 Anche questo lo trollo da dietro Brodero Come va la vita No ragazzi Che infamata Veramente Questa è una grandissima parata Mi dispiace Sto facendo lo snis del gruppo Ok in ogni caso Entriamo prima in questa torre Poi dobbiamo comprendere raga Dove si trovano i covi Con più persone Dobbiamo riuscire a comprenderlo Perché raga Secondo me Non è che siano in posti strani Sono tutti più o meno insieme Secondo me sono tutti qua dentro Ve lo giuro raga E quindi sapete cosa vi dico Ma visto Non ci credo ma visto Questo guarda è un passo Da me immagino cosa ho pensato Ok Nel momento di pusharlo Eh bravo a scappare Allora Fermi Signore nel nostro momento Zitti Zitti tutti raga Altro che covo Non ci sta nulla qua raga Fermi Boom Ok killato un altro Ok Ok Mamma mia ragazzi Adesso iniziano ad essere tutti vicini Vi ricordo che adesso iniziano ad essere Più o meno Tutti vicini Oh no no Porca paletta Aiuto Guarda di quanto scappano Il problema è che qual era quello one Ok Una scatola Mamma mia signori Ma cosa sta succedendo Questo è il nascondino più figo Che abbia mai visto in assoluto 39 giocatori rimasti Ok Sniper lo faccio Devo fare cose incredibili raga Questo game No Ci credo in headshot Non ci credo Per un pelo Ciao brother Let's go Altro kill per noi Questo qua si avvicina Si sta avvicinando troppo eh Ok guardalo Guardalo come scappa Bravo 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 lui Ok Mamma mia raga Ok si torna invisibile eh Si torna invisibili raga Let's go Brother Oh mio dio raga Oh mio dio Quanto è bello trovare i nemici così Intanto 17 kill per noi 36 persone rimaste Ma sono curiosissimo di vedere Chi cavolo vincerà No No hanno fatto cadere una skybase No mi dissocio Bruttissimo gesto Questi sono da bannare Ma no raga Il bro della skybase Brother ma perché No Non so se è stato lui in effetti Ma chiunque sia stato Non si fa raga Una skybase avete voluto Dai ma che cavolo Era bellissima quella skybase Oh porca paletta Vedete che mi potrebbero killare così Gli infami Potrebbero killare così Ve lo dico io eh Sono più furbi del previsto loro eh Ma questo raga Ma questo raga E quest'altro qua dietro Tenite qua Che vi voglio prendere uno a uno Guarda l'invisibile non Ok Killato quello invisibile Buono 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 Mamma mia ragazzi Ora faccio una strage eh Che incredibile strage Che faccio ora Allora guarda Mi fanno il giro addirittura Questo qua mi ha fatto il giro Faccio finta di non vederlo raga eh Guardate E invece Non ci credo raga Oh mamma mia Che mega killozza raga Mamma mia come l'avevo trollatissimo Questo ok Fermi 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 Venite qua Venite qua Che vi devo killare tutti Ok io mi immagino la gente Più nascosta ora Dove si trova Ok questi qua Mamma mia comunque raga Geni questi qua Che hanno trovato l'invisibilità Dei geni proprio Ok raga fermi Ok let's go Un altro killato Mamma mia sto bomba Comunque è troppo forte eh Aia guardali infami Brutti infami Che non siete altri Vedete qua Vedete qua adesso te eh Che mi volevi buttare Scaraventare fuori safe Adesso te Ti beccherai un bel colpazzo 23 kill per noi signori Nel frattempo 28 player rimasti Devo stamperare un po' di gente No ok No Ma raga ma sono troppo forti Questi qua sono i king dei movement Altro che io Letteramente raga Non mi sta Guarda guarda voglio entrare tutti nel box Mai entrare tutti insieme In un box Vando ferro C'è il popo a spammone Ah ma questo invece Vuole salvare tutti Curando tutti insieme Ok Bam 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 Ok chiamato un altro Ok raga tosta eh Ok Questo Vai 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 56 Devo ricaricare Raga 26 Giocatori 25 Rimasti comunque avrebbe vinto Quello nella skybase Secondo me raga eh Che però comunque adesso Sarà giù con gli altri eh Perché ricordo che Ok chiamato Ricordo che comunque Fortunatamente non è morto Tanto raga non vi dovete killare Non dovete morire dalla tempesta Dovete stare attenti Dovete essere dei gladiatori No ma che fanno Ma che fa questo Ma che fa Ok Chiamato un altro Ok la sepora sta dall'altra parte eh Mamma mia raga Che situazione bruttissima Ve lo giuro Brodero Guarda come si fa il medikit questo Venite qua No raga No raga Oh mio dio Nove di vita No no raga Non mi buttate fuori con l'impulso Vi prego non mi buttate fuori con l'impulso Vieni cozzo per noi No raga Sto per dire una cosa strana Non pensavo di doverla dire ma Porca paletta raga Se non mi curo qua ci muoio Cioè stavo per prendere contro Cento circatori che neanche potevano usare le armi Cioè da solo stavo moredo Siete troppo forti Vieni qua bro Bam 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 Uno di vita Ucciso Mamma mia mamma mia Devo ricaricare Ok guardali 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 Mamma mia ragazzi Qua vi consiglio Dovete fare tipo solamente full box raga E sperare che non venga nel vostro box Ok Questi qua invece sono beccati entrambi Da furia di ferro No fammi scappare Come di safe Non ci voglio morire Ok 11 giocatori rimasti 33 kill per noi Vediamo chi vincerà raga eh Ok let's go Bella per Jordi Ciao brother Ti ho anticipato la mossa Ok 8 player rimasti Dove sono? Raga dove sono gli 8 player? Qualcuno mi spiega dove sono gli 8 player Che io non vedo Guardali No raga non ho fatto la giocata Da invisibile No non posso buildar da invisibile Ok No raga Devo andare a prendere io eh Eccoli Venite qua Ok Ok no fermi 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 Ok raga sono gli ultimi rimasti Chi è che morirà per primo? Chi lo prima questo? Poi questo? Ok Chi è rimasto? Signori uno contro uno E il vincitore Del nascondino Eh Beh posso anche morire Tanto gliela lasciamo lui la vittoria Oh E un applauso al nostro Eccolo qua Non mi fa Non mi fa vedere Non mi ho fatto vedere No Brother tranquillo Ti vado a prendere nel play In ogni caso Questo nascondino ci conclude così Grazie mille a tutti per aver partecipato Codice ferro Like iscrizione Noi ci vediamo nel prossimo video Bella rega Noi ci vediamo nel prossimo video Noi ci vediamo nel prossimo video